The Walking Dead Mi raccomando ragazzi ci tenete tantissimo se lasciate un mi piace perchè ci tengo veramente moltissimo Passate nella pagina facebook e nel profilo instagram tutti i link li trovate nella descrizione Quindi nulla adesso iniziamo subito con il video Ebbene si ragazzi vi dico subito che il link in descrizione troverete la promo in questione Perchè come sapete se mettessi una promo del genere ovviamente AMC potrebbe bloccare questo video Quindi per evitare insomma che succeda vi lascerò il link in descrizione di questa promo appunto che è uscita Dove veramente ragazzi si rivelano tantissime cose Io vi dico che questo video conterrà spoiler quindi se non volete rovinarvi nulla di quella che sarà appunto la settima stagione Vi consiglio di chiudere questo video perchè ovviamente posso dire qualcosa che magari voi non volete sapere E quindi insomma per rispetto vi dico di chiudere il video se non siete interessati E quindi adesso vi farò vedere qualche screen appunto di questa promo in quanto ovviamente Essendo ragazzi che non posso farvi vedere appunto la promo completa Ovviamente vi posso far vedere appunto dei screen che ho fatto appunto di questa nuova promo che è uscita Nella prima immagine ragazzi si vede Daryl ovviamente Quindi si vede Daryl appunto che sta guardando un qualcosa Secondo me ragazzi questa immagine proviene dal diciamo dal santuario Quindi da dove ci sono gli uomini di Negan e Negan stesso Perchè a mio parere ragazzi cosa succede? Che Daryl verrà rapito e verrà portato appunto nel santuario E quindi essendo che è nel santuario ovviamente vede attraverso una recinzione che secondo me appunto quella Sembra una specie di recinzione e quindi a mio parere ragazzi è nel santuario dove appunto è stato rapito da Negan Quindi nella prossima immagine ragazzi vediamo semplicemente Rick che sta facendo un discorso Che adesso vi spiegherò perchè molto ovviamente ragazzi con i sottotilo non si capisce nulla essendo in inglese E a quanto pare ragazzi Rick dice semplicemente io non sono più il leader io non sono più che comando Comanda lui e non si sa effettivamente a chi sia diretto questo messaggio Cioè nel senso si vede lui che dice adesso non comando più io comanda lui E a mio parere ragazzi questo voglio dire che Negan sia arrivato ad Alexandria appunto Stia davanti appunto a tutti quanti Negan stia davanti appunto al gruppo di Rick E Rick fa un discorso dicendo che lui adesso ha il comando cioè Negan Quindi è davvero ragazzi una cosa fantastica e stranissima vedere Rick che dice questa parola Cioè questa frase ragazzi sinceramente ci sono rimasto veramente Cioè nel senso non mi aspettavo che Rick dicesse proprio così chiaro e tondo Adesso è lui che comanda Quindi semplicemente ragazzi sono sconvolto perchè non mi aspettavo semplicemente una cosa del genere Cioè nel senso non mi aspettavo una promo che rivelasse tantissime cose Quindi non so effettivamente ragazzi se questa promo sia stata rilasciata per non so per errore o cose del genere Perchè in italiano questa promo qui non si vede Si vede su questo canale che è Fox HD Però ragazzi si trova Fox HD quello in inglese Quindi mi sembra strano ragazzi che l'abbiano rilasciata così Cioè nel senso una promo così spoiler Sinceramente non me l'aspettavo Infatti da una parte ragazzi si sapeva bene che Daryl comunque si sopravviveva a Negan Questa promo l'ha confermato quindi state tranquilli che Daryl ovviamente si è salvato Perchè lo vediamo appunto bene bene in questa foto Nulla fatemi sapere voi cosa ne pensate qui nei commenti di questa promo Anche se come ripeto non mi aspettavo di più Cioè mi aspettavo di più di Daryl ma non mi aspettavo un discorso così di Rick Quindi nulla Spero tantissimo ragazzi che questo video appunto vi sia piaciuto Oramai manca veramente pochissimo Manca praticamente un giorno Quindi siamo veramente addirittura ad arrivare al primo episodio Sto veramente ragazzi impazzendo Perchè non vedo l'ora di vederlo Spero tantissimo come ripeto che questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo di lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale se non è ancora fatto Per non perdervi i prossimi contenuti di The Walking Dead Mi raccomando ragazzi lasciate un mi piace Passate nella pagina Facebook e nel profilo Instagram Tutti i link li trovate nella descrizione Quindi nulla Noi ci sentiamo in un prossimo video Un saluto da Foxhound e The Walking Dead News, spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ciao a tutti